ciao amici welcome guys oggi vi facciamo vedere come cucinare uno strudel di mele in soli 31 minuti lo acquistiamo in un minuto lo tiriamo fuori e lo mettiamo in forno e poi in 30 minuti lo cuociamo facilissimo eccolo qui il bellissimo strudel sul gelato un po spezzato ma non fa niente lo mettiamo in forno 30 minuti ed è fatto facile non mi sembra una cosa così complicata eccolo qui cotto perfettamente un po aperta ma non c'è problema ci piace uguale fantastico uno strudel di mele preparato in soli 31 minuti buon appetito ve lo pappo tutto ciao ragazzi